ma bentornati amici in subnautica con frankie romano ebbene sì c'è un aggiornamento ebbene sì non c'è la cam ebbene sì è un caldo della madonna e avere un faretto puntato a 40 gradi in una stanza con le finestre chiuse per non registrare i rumori delle macchine che passano mi sembrava veramente molto eccessivo per quanto è il nostro impegno su youtube insomma quindi perdonateci se questa volta non ci sarà la cam ma veramente avere un faretto puntato addosso è come tirarsi delle sassate sui coglioni comunque detto questo c'è un nuovo aggiornamento quindi aggiorniamo e carichiamo il gioco ha detto che perderemo tutti i nostri salvataggi vediamo se effettivamente sarà così con l'occasione nell'attesa del caricamento vi ricordiamo anche di se vi piace quello che vedete se i nostri contenuti sono di vostro gradimento di lasciare un like di condividere magari anche il video dai non fate gli stronzi su ehi ma che cazzo succede guardate che spawn che ci ha dato guardate che spawn che ci ha dato 30 secondi di ossigeno rimanente e cioè non mi pare non mi ricordo che l'ultima volta oddio anche uno un pesce stalker addosso cioè può succedere qualcos'altro di peggiore cioè siamo spawnati sotto le piante di creepvine con uno stalker addosso con 20 secondi di ossigeno io direi che la vita ci sorride quindi continuiamo ad andare avanti così che ci toglieremo delle belle soddisfazioni come vi sta come vi sta sembrando questo gioco vi sta piacendo a me piace moltissimo e vedete che laggiù c'è la nave che un giorno forse raggiungeremo ma magari la raggiungeremo forse quasi sicuramente anzi in questo episodio vai a sapere chi lo sa ma vabbè le mie belle pinne le avete viste c'è un sole che spacca i crani quindi direi di cominciare a fare quello per cui stiamo stiamo sopravvivendo diamo un'occhiatina anche all'inventario già che ci siamo prima di ripartire anche perché sono passati diversi giorni intanto vale dgt ha iniziato a giocare salutiamo vale dgt vedete che bella forma di sponsorizzazione bene abbiamo raccolto la polvere dello scoppione quindi il creep va in la polvere dello scoppione diciamo che il crafting è abbastanza complicato per me perlomeno quindi lo sapete la serie sta andando molto piano proprio perché non essendomi spoilerato niente sto cercando di godermelo appieno come ogni buon giocatore in fondo dovrebbe fare con ogni titolo cioè se tu ti compri un gioco e poi ti guardi tutti i gameplay e a parte ti rovini tutte le sorprese e poi insomma non c'ha senso pagare dei soldi per qualcosa che alla fine non ti lascerebbe niente se tu lo conoscessi già prima di iniziarlo a giocare quindi io direi che il nostro obiettivo l'ultima volta era farci un bel saldatore vediamo un po' com'è il nostro poddino in che condizioni è direi che abbiamo fame è il 28% della barra della fame quindi tra un po' bisognerà assolutamente mangiare possiamo fare del cloro grazie ai depositi di sale e questo è molto bene l'avevamo raccolti insieme a Johnny Bass l'ultima volta vabbè i lingotti di titanio ne abbiamo praticamente un futtio con la U il futtio elettronica vediamo se c'è qualcosa che strana cosa vedete si muove in avanti il personaggio io non lo sto toccando non so perché cioè un'auto zoomata veramente come mai sta cosa e quindi controlliamo bene anche se ci sono nuove voci di crafting perché dipende da quello che hai nell'inventario come ben ricordate si ampliano le voci del crafting cioè non sono sempre queste addirittura nel tablet cioè ce ne è veramente tantissime e si intuisce che potremmo costruire una base sottomarina dei mezzi per muoverci velocemente per essere più a riparo per difenderci meglio eccetera eccetera bla 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 possiamo fare sempre sti cazzo di bengala che sinceramente non ci facciamo proprio una cippa quindi il solito armadietto tra l'altro ne dovremmo avere uno qui sotto se il salvataggio non è stato sputtanato alla grandissima il faro l'avevamo provato con giorni ma fa ridere fa veramente cagare ancora vale che entra vale di gt ciao vale tra l'altro prima mi sono dimenticato di salutare graffin quindi salutiamo graffin michele e la gravi spera l'avevamo già fatta quindi vediamo un po' vediamo un po' che cosa ci serve per evolverci e sopravviverci quindi diamo uno sguardino ecco la taglierina la snow eccolo il saldatore ci mancherebbe il magnesio il magnesio perché la polvere lo scoppione l'abbiamo il titanio l'abbiamo veramente una cava quindi si vediamo un po' di fare un'uscita e trovarci questa robina molto interessante per fare il saldatore e dare una svolta significativa alla nostra esistenza che poi tra le altre cose io mi ricordo che avevamo raccolto diversi sali e dai sali dai depositi di sali si possono praticamente dai depositi di sale si possono craftare fette di magnesio fette di magnesio chi è che non fa colazione con una fetta di magnesio la mattina eh bello asciutto bello salato quindi vediamo un po' se le risorse nei materiali basici o avanzati no avanzati no perché sono compositi vediamo ecco qua infatti ho raccolto dal mio inventario dal mia chest del pod i sali che aveva raccolto il buon Johnny Bass oltre a tutte quelle cose inutili che ha affettato nelle puntate precedenti perché non si sa che veramente che ha affettato e facciamo il nostro salvatore salvatore il saldatore finalmente da quanto tempo lo stavo aspettando cazzarola quindi è qui è pronto abbiamo tutti gli ingredienti per farlo quindi facciamolo dai è un momento storico nella storia di questo gameplay stiamo per fare il saldatore ovvero il passo successivo dei crafting il crafting dei crafting dei crafting dei crafting quindi sistemi della capsula sono danneggiati applichiamocelo questo saldatore applichiamocelo spingiamocelo là piano piano se solo smettessi di spingere il tasto sinistro e usassi questo che è il destro e funziona così scusate ragazzi mi sono intrigato con i tasti comunque vedete c'è più luce abbiamo ripristinato i sistemi di luminosità insomma abbiamo ripristinato il poddino il poddino e questa è una grande notizia ora il saldatore ci farà fare veramente passi da gigante vediamo fuori com'è no è fuori è buio quindi meglio niente ok siccome ho fame ho l'11% di sazietà chiamiamola sazietà devo craftarmi assolutamente un coltello di sopravvivenza quindi ho craftato il vetro proprio adesso e adesso mi faccio il mio coltellaccio di plexiglassaccio per andare fuori e ammazzare tutti i pesciacci ricordiamo che il mio pesce preferito è lo sgriccione quindi giù nel mare blu insieme alle firene eccolo ti ho visto dov'hai? attenzione attenzione che Frenky lo pesca è un pugno di sabbia vieni qua mannaggia ragazzi la forza è l'unica l'unica nota che non che stanca un po' cioè l'unica nota non degna di nota in pratica probabilmente sono io che sbaglio ma forse piazzando una gravisfera appena sotto il pod magari si potrebbero raccogliere pesci automaticamente no poi ovviamente se si muore la gravisfera va persa però dovrei provare ma sinceramente c'è così tanto da fare che non so non so preferisco andare oltre e portarvi il sodo quindi di nuovo giù e andiamo ancora alla ricerca di risorse tra l'altro mi sto accorgendo che sto girando alla cacchio di cane e quindi sto perdendo del tempo oh guardate ho ritrovato l'armadietto che aveva craftato Johnny Bass tra l'altro ha personalizzato con la scritta con l'etichetta c'ha scritto dio non so a che cosa alluda se ha l'armadietto stesso o no e vedete ha raccolto solo semi lui è un botanico è un botanico c'è il pollice verde praticamente raccoglie tutte ste stronzate e basta salutiamo Johnny Bass che non c'è ma è giunta anche l'ora di riempire la pancia perché come si dice da noi la pancia si riempie con le maccarone quindi prendiamoci dei pesciotti rientriamo nel nostro podino cuociamoceli a dovere e tiriamo su sta cacchio di barra della sazietà perché altrimenti finiremo stecchiti in un mare in un mare basta senza in un mare di in un mare ah tra l'altro anche un po' di sbircione che è il mio preferito come sapete tutti quindi coltello alla mano guardate che figata il mio coltello e tra l'altro posso riparare anche il ripetitore delle comunicazioni non col pesce non col coltello non col bengala non col phon bensì col saldatore vediamo un po' che cosa succede è un altro pezzo che mettiamo a posto non è cosa da poco ripetitore delle comunicazioni quindi a questo punto l'abbiamo rimesso in sesto dovrebbero arrivare delle comunicazioni quindi se non erro se non vado errato anzi se non orro salutando Whitecott sentiamo un po' questa è una risposta di un trattore automatico proveniente dall'aurora ok la nave è schiantata la vostra richiesta di soccorso è stata ricevuta una squadra di soccorso verrà inviata la vostra posizione statico il tempo stimato di arrivo 9999999 ma che è svolta ma che è svolta ok abbiamo mandato un segnale anche se è all'aurora che lì da parte giace con busta ovvero bruciata mamma mia come parlo e niente dobbiamo bere ragazzi 8% di acqua quindi come sempre bisogna raccogliere l'aereo sacco che dà un sacco di acqua magari chissà forse un giorno troveremo anche proprio le bottiglie d'acqua da qualche parte magari se riuscissimo a raggiungere quella caspita di aurora forse qualcosa ci potrebbe essere prendiamo un po' d'ossigeno una bella boccatina di ossigeno che ci fa sempre molto molto comodo pannello solare chiunque sappia come portar su questo pannello solare io veramente gli regalo una ricarica di steam perché non ho veramente idea ovviamente non è vero non vi regalo un cazzo di niente anche perché non navigo nell'oro quindi i giochini me li compro per cazzi miei mi dispiace ragazzi e niente cazzate a parte ho passato la notte sopra a questo ossigenatore ragazzi perché perché voglio puntare a prendere dell'altro creepvine perché adesso il mio obiettivo è farmi quella maledetta tuta devo farmi la tuta quindi aspettiamo qua muoviamoci di soppiazzo molto molto piano come sempre facendo attenzione agli stalker quei pesci tremendi che con quattro morsi ti mandano al creatore queste sono le piante di creepvine come abbiamo visto nell'altro episodio raga quindi ecco vedo già uno stalker laggiù in basso a destra si chiamano rompa le palle mi prendo un lampone questo è più un lampione visto la luminosità bene bene ho preso dei campioni di creepvine ci servono assolutissimamente che è l'inventario pieno mannaggia vediamo un po' se ce la faccio no è pieno proprio l'inventario quindi niente ci tocca darci alla fuga bene non resta altro da fare che riaffiorare piano piano così con passo tartarugoso e assolutamente liberarci l'inventario quindi apriamo il tablet buttiamo un po' di roba e ributtiamoci giù perché dobbiamo raccoglierlo questo creepvine se vogliamo fare la nostra tuta e continuare nell'esplorazione che bello ce l'ho fatto ho raccolto diversi campioni e diversi grappoli proprio di creepvine quindi mi ridrigo al pod e vedo se riesco a fare questa maledetta tuta per poi virare dritto sotto l'aurora o nei pressi dell'aurora dove qualcosa sarà anche caduto da ste casse che trasportava se ne trasportava quindi andiamo subito subitissimo senza sbattere la testa nel pod all'interno ah laggiù tra l'altro c'è anche la vecchia bombola d'ossigeno ne avevamo fatte due pensando che aumentasse ancora di più la riserva ma non è stato assolutamente così cattivissime notizie cattivissime notizie perché controllando bene purtroppo ancora non la posso fare ma adesso esco giuro che adesso esco prendo quello che serve e bisogna che mi crafto questa tuta la mia sete di esplorazione la mia sete di conoscenza va assolutamente dissetata si termine giusto e tra l'altro se controllate in basso a destra salutiamo anche alberto medori quindi continuano le sponsorizzazioni beh bello non le chiamerei neanche sponsorizzazioni così le amicizie anche se adesso l'aria si sta facendo abbastanza minacciosa guardate quei branchi di pesce no che belli sento dei turbini intorno a me eh queste ecco lo stalker che mi dà addosso basta è ora di prendere in mano il coraggio zia 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 maledetto di la specie zia zia ormai ho deciso muoio ma non c'è continuo a affettarlo wow 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 e mori cazzo incredibile è un pesce aggressivissimo Molto aggro come pesce Oh attenzione Ho ucciso il primo stalker Del mio gameplay Della mia esperienza su subnatica ma devo prendere Anche una boccata d'aria perché Altrimenti è inutile che lo ammazzo Se poi ci muoio dietro Anche se ho il 6% Vediamo se si può prendere qualcosa Da sto pesce maledetto Che sorveglia i creepvine Il guardiano dei creepvine Niente mi sa che non Va vaffanculo Rientriamo Oh tra le cose nuove Il noto del lubrificante Ma mi sembra una cosa troppo avanzata Per il nostro stadio attuale Quindi cerchiamo di ritirare su Un po' l'idratazione con questo pesce Che ci darà qualcosina In idratazione ecco 3% 2% vabbè niente di No 25% no 2% 2% e facciamolo Sto lubrificante dai tanto sono risorse Che altrimenti andrebbero perse Quindi perché tentennare Andiamo avanti Andiamo avanti Non perdiamoci in futili cose Qui sempre tubatura e serbatoio dell'ossigeno Ma ne abbiamo veramente un fottio Facciamolo anche lo scanner Che ho sempre sostenuto Che non serva a un cazzo E purtroppo ecco Non siamo più iterati Niente Morti e risorti Eccoci qua Ritorniamo nel nostro podino Abbiamo perso lo scanner E il lubrificante Come voleva si dimostrare Ottimo Andiamo avanti Dai Diamo una svolta significativa A questo gameplay E per dare una svolta significativa Aspetterò che sorga all'alba Proprio qui Su questo scoglio A fior di acqua A pelo d'acqua E voglio anche capire Inoltre Se ci sono ancora Delle radiazioni Avvicinandomi Alla nave Aurora Aurora Non Aurora Aurora Per il momento Sembrerebbe tutto tranquillo Eh no Ecco Radiazioni rilevate Accidenti Quindi niente da fare Dai Devo fare assolutamente Sta tuta Giuro Giuro Che la faccio subito Subito Immediatamente Benissimo raga Ho appena rubato Il quantitativo necessario Per fare La tuta Non potete capire La sensazione Di gioia Che ho Adesso in questo momento Che sto provando Perché La faccio Subitissimamente E poi vado a vedere Che cacchio Si nasconde Là sotto Ovviamente dopo aver bevuto Ci mancherebbe E quindi siete pronti Al gran momento Abbiamo fatto La nostra Tuta Antiradiazioni Finalmente Un problema in meno Un grosso problema in meno Perlomeno me lo auguro Speriamo di trovare cose Di inestimabile valor Là sotto All'Aurora E per sfregio Mi rifaccio anche il lubrificante Che prima Mi era andato Perduto Nonostante L'avessi craftato Perché sono morto Disidratato Quindi raga Sono Non so voi Guardate che figa La tuta addosso Proprio Figa 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 Via Andiamo Prendiamo il coraggio A due mani E anche il coltello Possibilmente Non è male Guardate Guardate Ci stiamo avvicinando Ai rottami Della nave Questo sembra Un monitor Un monitor Celeste No? Ma quello era il monitor Comunque Guardate Guardate quanti detriti Oddio Sono emozionatissimo Sembra una cazzata Ma Mi sta salendo Quella curiosità Sana Di vedere Che cosa C'è Sotto la nave Anche se Ci dobbiamo arrivare Ancora Questi sono i detriti Che Diciamo Stanno qua Nelle vicinanze Non ci siamo Ancora Diamoci un po' Di ossigeno Guardate Anche quanti pesci Sbircioni Questa è zona Tipica Di sbircioni C'è poco Da Poco da fare Ancora Rottami Ovviamente Qua sotto Pullulano I rottami Boccatina D'aria Guardate Dove siamo Siamo proprio Sotto i reattori Dell'orora Wow Ragà Prendiamo il respiro E buttiamoci giù Perché Qua sotto Io spero ci sia Veramente La svolta La svolta Guardate Cambia anche La conformazione Del 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 fondale No Queste pietre Non le avevo mai viste Prima Guardate Quanti pezzi Questi non si possono prendere Uh Una cesta Apri cassa di rifornimenti Acqua di Oddio Che è I portacci Su Wow È enorme Via 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 No Era troppo bello Wow Cazzo Via 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 Prendiamo il possibile E togliamoci subito dalle scatole d'acqua intorno Qua giù Sembra ci sia Bella roba Ok Un'altra cesta Un'altra cesta di rifornimenti Altra acqua Bene Bene Questa non Questa dovrebbe Reidratare Che è questo pesce Questo è nuovo Attenzione Pesce Reginald Reginald Un pesce inglese Viene tipico Delle zone di Brighton Comunque Cazzate a parte Ragazzi Via 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 Cioè avete visto che cazzo c'era là sotto Cioè che Che pesce era Cattivissimo Anche se non m'ha tolto E poi tutta sta vita Comunque Rientro ragazzi Scusate Rientro Provo anche a curarmi Perché E soprattutto Deposito l'acqua distillata Perché Sarebbe un Un dramma Perderla dopo aver fatto Sta Faticata per raccoglierla Mettila Mettiamola Mettiamola in cassaforte Prendiamo il chittino Che spona Come sapete Ogni volta Ma raga Finalmente Finalmente Cose nuove Cose nuove Bene Bene Un crescendo incredibile E Speriamo Che riesco presto A A craftare Anche fondamenta E basi sottomarine Io salvo Ragazzi Vi ringrazio Lasciate un like Se vi è piaciuto Oppure no E Niente Usciamo al desktop E Assolutamente Sì Non c'è Non c'è altro Da fare Per ora Mi dispiace Ma Non credo Di voler rimanere Ok